Questo invece è del mio mio Costantino. Sì, Costantino che salutiamo. Questo è cosa? Tintoretto. Tintoretto, Dio buono, cilieva minone. Quelli bello si è fatto. Sta bene anche lui, anche lui adesso farà un po' di podromo. Intanto le corse fucecchio, che nelle fornacce ancora non sono uscite, le date. E questo tanto lo conosciamo, che bello si è fatto. Quindi facciamo le regolari e poi un po' di provincia forse. Sì, fucecchio, più mi servirà per fucecchio, asti, dove c'è le corse poi le farà. Per ora rientriamo all'ippodromo. Hai programma una corsa? Il 7 dovrebbe correre anche lui. A marzo ne dovrebbe avere un po'. Ma lui il protorollo non ci l'ha provato a segnare? No. C'è gli stinchi, guarda gli stinchi. C'avrà 16, 17. Ah ecco, non ha le misure insomma. In altezza sì, si adatterebbe anche bene. È un bel cavallino. Lo stinco purtroppo non ci si può fare niente. Tintoretto, eccolo qua. Grazie. Grazie. Grazie.